Sulla pista ciclabile di Martinsicuro la Ciclat incalza all'amministrazione Cavaioni, vietato criticare. In una nota stampa il coordinamento ciclabile Abruzzo Terramano torna a parlare dei lavori del Bike to Cost, rimarcando il ruolo di semplici osservatori degli interventi legati alla ciclabilità in provincia di Terraman con il solo scopo di indirizzare le amministrazioni verso azioni mirate ed efficaci. In tal senso si stanno monitorando i vari lavori del progetto Bike to Cost, evidenziandone purtroppo molte criticità e dobbiamo evidenziare che spesso le amministrazioni, invece di cogliere immediatamente le nostre considerazioni, sempre suffragate da dati oggettivi e norme di legge, si trincerano dietro il silenzio, rispondono stizzite, accampando scuse varie, scrive il coordinamento. Ma non c'era mai capitato, come è accaduto per Martinsicuro, che l'amministrazione ci scrivesse invitandoci ad astenerci per il futuro dall'esprimere giudizi diretti a creare timori infondati nei futuri fruitori della pista ciclabile truentina e minacciando azioni legali. Ma cosa ha affermato questo coordinamento di così grave da ledere l'immagine e la reputazione di Martinsicuro? Continua la nota. Abbiamo solo fatto notare all'amministrazione che la pista ciclabile, da poco realizzata con i fondi del progetto Bike to Cost, fondi pubblici quindi di tutti i cittadini, in alcuni tratti non rispetta i raggi di curvatura, minimi previsti dalla normativa vigente, minimo 3 metri dal margine interno e che nel mezzo di tali curve sono state posizionate griglie per la raccolta delle acque che potrebbero costituire un ulteriore problema per il transito dei ciclisti a causa del leggero incasso nel piano stradale. Allarmismo, lesione della reputazione del comune, terrorismo mediatico, restiamo comunque a disposizione dell'amministrazione truentina per un confronto pubblico dove il primo cittadino potrà agevolmente smentirci progetti e norme alla mano in modo che, in caso ci fossimo sbagliati, potremmo chiedere pubblicamente scusa senza scomodare l'ufficio legale dell'ente.